Ogni anno con l'avvio dell'anno scolastico i comuni si trovano ad affrontare una serie di difficoltà che rendono complessa la riapertura delle scuole. La gestione degli edifici scolastici, la manutenzione, le norme di sicurezza, la carenza di fondi e la carenza di personale sono solo alcune delle problematiche che si ripresentano con ciclicità preoccupante. Queste difficoltà non solo mettono a dura prova le amministrazioni locali, ma influenzano direttamente la qualità dell'istruzione. A Teramo la questione della ripresa scolastica e l'attivazione delle menze in ritardo ha creato non poche polemiche su cui però l'amministrazione d'Alberto è riuscita a correre ripari anticipando al 18 l'entrata in funzione inizialmente programmata per fine mese. Il Comune di Teramo ha affrontato un tema che in realtà è diffuso su tutto il territorio regionale perché l'inizio delle menze spostato a fine settembre-ottobre è molto diffuso. Noi siamo riusciti attraverso un lavoro che ovviamente ha portato anche a una discussione con la proposta e l'iniziativa del sindacato ma con la volontà forte dell'amministrazione comunale di anticipare, tant'è che proprio in questa settimana partiranno le attività della mensa il 18 e questo è uno dei tanti problemi, delle tante questioni che si stanno affrontando in Abruzzo. Altra delicata questione regionale è quella del servizio legato alla gara del trasporto scolastico. Sapete che quest'anno c'è stato questo elemento di novità con la gara che è stata messa in atto da ARACOM a cui c'è stata l'adesione di tanti comuni ma con situazioni di deroga all'interno di altri. Quindi anche questa è stata una trasformazione importante che sta creando una serie di questioni è un dibattito che si sta sviluppando anche a livello di consiglio regionale in un contesto nel quale si registrano sofferenze strutturali, pensiamo in particolare al tema dello spopolamento questione nota, al dimensionamento scolastico che ha vissuto l'incertezza degli anni precedenti e su cui si dovrà necessariamente tornare. Noi vogliamo presidiare, vogliamo che siano presidiati attraverso le scuole tutti i territori della nostra regione come Anci ci siamo espressi più volte, poniamo nuovamente il tema di discussione con la regione Abruzzo e poi il problema delle carenze di organico. Questo è un po' il quadro che porta oggi al quadro di discussione all'interno della comunità scolastica che si pone oggi nel territorio regionale.